Papà, ti piace il mio vestito da Halloween? Non fa paura, cos'è? È la mia pagella! Siete una bella coppia, come vi chiamate? Nico? Tina? Sono in ritardo per l'immondizia? No, salta dentro! Qual è stata la più brutta vacanza che hai fatto? Quando sono andato al campeggio! Dobbiamo fuggire da questa stanza! E come? Basta passare attraverso la serratura, lanciandosi di testa dentro il buco! Ok, allora provo! Ai ai! Non ce l'hai fatta! Cos'è successo? Succede che sei uno stolto! Tu e io che ti vado dietro! Dovevamo immaginarcelo che quelli del manicomio avrebbero lasciato dentro la chiave! Puoi spegnere la musica? Non posso! Come mai? Perché sono radioattiva! Dottore, ho la disenteria! Ha provato con il limone? Sì, ma appena lo tolgo, ricomincia! Ti vedo arrabbiato! Sì, ho il dentice avvelenato! Amore, vorrei farmi il lifting facciale, che ne pensi? Meglio di no! È come cambiare le piastrelle in bagno! In che senso? Nel senso che il cesso rimane comunque! Caramella, è mortadella, lo salame, mandarino o mandolino? Baci, Nella! Cara, se mi vedessi in stato vegetativo, dipendente totalmente da un macchinario e da una flebo, vorrei che tu staccassi quegli apparati! Quindi mi stai chiedendo di toglierti il cellulare e la birra? Com'è andato l'esame? L'orale è male, ma lo scritto è andato bene! Dottore, posso fare il bagno con la diarrea? Se ne fa tanta, pure i tuffi! Come mai sei sempre seduto? Scusami, oggi mi sento stanco morto! Mia moglie ha fatto una maschera ai fanghi, è stata bellissima per un giorno intero, poi ha tolto il fango! Mario non risponde mai ai miei messaggi! Ti ha gostato? Io e mio marito dormiamo in letti separati, il mio è in Piemonte e il suo in Lombardia! Uffa, parliamo sempre di cose scontate! Per forza, siamo banani! Che viaggio possiamo fare per l'anniversario? Mi piacerebbe andare in un posto che non vedo da molto tempo! Allora potremmo andare in cucina! Io sono un animale domestico! Io sono un animale condomestico! C'è stato un grave incidente d'auto, la vittima ha perso il braccio destro! Ok, indaghiamo sul sinistro! Da quando ci sei tu? Non ho più il prurito! In vacanza mio marito ha fatto la dieta del cocco e delle banane! È dimagrito? No, ma vedessi come si arrampicava sugli alberi! Ciao chiave, come va? È tutto ok! Ma tu sei una di quelle che se vede un uomo brutto glielo dice? Scusa, ma chi ti ha mai detto niente? Papà, cos'è un uomo? È una persona che si assume le responsabilità, lavora e si prende cura della casa e della famiglia! Ah, potevi dirmelo subito che era la mamma! Tre anni fa sono andato in vacanza in Spagna e mia moglie è rimasta incinta! Due anni fa sono andato in America e mia moglie è rimasta incinta! L'anno scorso sono andato in Giappone e mia moglie è rimasta incinta! Basta, il prossimo anno la porto con me! Caro, come mai stai piangendo? Ti ricordi quando avevamo solo 18 anni? Eh sì, bei tempi! Ti ricordi quando tuo padre ci ha sorpresi in camera tua? Sì che mi ricordo! E ti ricordi quando tuo padre disse o sposi mia figlia o ti mando in galera per 30 anni? Certo che mi ricordo! Ma perché sei triste? Beh, sarei uscito oggi! Prof, ma è vero che Carlo Magno era sincero? Non saprei, perché dici questo? Perché era franco! Ti sei fatta male? Quando? Quando sei caduta dal paradiso! Che dolce! Cavolo, la tua faccia deve aver preso una bella botta! Salve, vorrei sapere quanto costano queste scarpe! 500 euro! Mmm, non mi piace il colore! Ciao Pera, come stai? Scusa, potresti chiamarmi dopo? Eh, ok! Ciao dopo, come stai? Mi dai una fetta piccola di dolce? Come le altre dodici? Sì, esatto! Dimmi l'infinito di leopardi! Leopardare! Bravo, vedo che ti sei preparato! Perché ti sei vestito così? Sto andando a una sfilata di moda! Che c'entra? È una sfilata a prete a portè! La Bibbia dice, chiedi e ti sarà dato! Prof, mi dà otto? No! Cavolo, mi sa che è atea! Non dovevi dare due morse al mio panino! Hai ragione, scusami! Adesso ho il rimorso! Vado a comprare le sigarette! E quella valigia? Fumo molto! La gente ha molta fame! Perché? Si rimangia sempre tutto quello che dice! Chi fu l'ultimo dei sette re di Roma? Il settimo! Dottore, com'è andata l'operazione di mio marito? Ehm! Posso parlare con lui? Ha una tavola oija? Ciao, tuo padre ha un vivaio? Avete rotto con queste battute! Non sono un fiore e sono fidanzata! È morta mia nonna! Mi servivano solo dei fiori! Vi starete chiedendo perché ho una croce, un bastone appuntito e dell'aglio! Ma è semplice perché io sono Buffy! L'ammazza vampiri! Qual è la città con le temperature più alte? Stoccarda! Ho comprato lo zaino nuovo perché mi piaceva un sacco! E allora perché non hai comprato il sacco? Mi hanno gettato nel branco dei lupi e ne sono uscito capobranco! Se mi gettassero nel recinto dei maiali ne uscirei capocollo! Oggi è il giorno degli sconti al negozio di scarpe! Dobbiamo cogliere l'occasione! Hai ragione! Scarpe Diem! Una volta per tutte, dimmi se mi ami! Non ti amo! Non cambiare discorso! Andiamo al concerto stasera? No, l'hanno annullato! Cavolo! Rimango sconcertato! Non hai portato nulla per vedere le stelle? Sì! Mi sono messa le scarpe strette! Se qualcuno è innamorato di te, inizierà a copiarti! Se qualcuno è innamorato di te, inizierà a copiarti! Gli intelligenti dubitano e gli stolti credono di sapere tutto! Ne è sicura? Sì, al cento per cento! Mi serve uno spunto per una battuta! Ne ho uno piccolo qui! Uno spuntino! Ve lo dico tra mezz'ora o tra mezzino? Miau! 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 Perché miagoli? Sono un gattacielo! Ho saputo che ti sei sposato! Come vanno le cose? Non mi posso lamentare! Allora va tutto bene! No, non mi posso lamentare! Chi ha fatto fuori Kenny? Maranza 1 o Maranza 2? Io non sono stato! Stavo ascoltando Alicante! Neanche io sono stato! Ero a Foot Locker con le mie amiche Pia e Dina a comprare le Air Force! Ah, non scordatevi di mettere like a questo video perché a 16.000 mi piace uscirà una nuova compilation! Ciao, volevo ricordarvi che è uscito il mio nuovissimo libro Ridia Creepy Pelle! È una storia lunga e intervallata da tantissime battute e freddure! Correte a comprarlo in libreria perché potrete avere il regalo, il volume Crea il tuo fumetto! Fate in fretta perché stanno finendo! Lo. Ma! Ti whilee! Ego! Segu